Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi del fumetto che abbiamo letto assieme per il mese di ottobre per il CB Book Club. Per chi non conoscesse il CB Book Club è un gruppo di lettura che trovate su Facebook. Vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione il video di presentazione del gruppo di lettura. Molto semplicemente ogni mese scegliamo insieme un libro o un fumetto da leggere insieme. Per il mese di ottobre abbiamo letto La Terra, il Cielo e i Corvi di Teresa Radice e Stefano Torgoni. Questo graphic novel è edito Vau Publishing a un prezzo di copertina di 20 euro. Ci troviamo in Russia nel 1943. La storia inizia un po' come una barzelletta, ci sono un tedesco, un italiano e un russo. Il tedesco e l'italiano sono due soldati prigionieri che evadono e nella loro fuga si imbattono però in una guardia russa. Onde evitare che questa vada indietro e segnali appunto questa fuga, decidono di portarsi questo ragazzo dietro con loro. Da subito c'è però un problema di incomunicabilità. Perché nonostante l'italiano capisca un po' di tedesco, comunque questi tre uomini parlano tre lingue diverse. Questa barriera linguistica viene riportata alla perfezione nel fumetto perché ognuno diciamo parla la sua lingua. E non c'è una traduzione, quindi anche noi rimaniamo un po' così. Quindi tentiamo di capire in base un po' al contesto, i gesti, le espressioni dei personaggi. E devo dire anche grazie alla voce narrante che comunque cerca sempre di spiegare, di raccontare bene o male quello che sta accadendo. Però appunto questa difficoltà di base mi ha colpito molto perché gli autori sono riusciti a riportarlo secondo me molto molto bene. La lingua però non è l'unica cosa che divide fortemente questi tre uomini. Sono comunque personaggi molto diversi fra di loro. Innanzitutto per la guerra si trovano comunque su fronti veramente opposti. Ma hanno proprio delle esigenze, degli obiettivi molto molto diversi che impariamo a conoscere man mano. Oltre a questo scopriremo anche che sì ci paiono così diversi, provenienti da mondi, status opposti. Ma sotto sotto c'è comunque qualcosa che accomuna tutte queste persone. Banalmente l'umanità, il fatto di avere una famiglia, essere parte di qualche cosa, provare dei sentimenti. Non importa da che parte stai durante la guerra. Hai una famiglia a cui vorresti ritornare, hai dei cari a cui pensare. E hai anche una sorta di urgenza di rimanere attaccato alla vita e quindi di sopravvivere. Ed è quello che cercheranno di fare in maniera diversa tutti questi personaggi. È una storia di fronte cui è impossibile rimanere indifferenti perché tocca comunque da vicino. Parlando appunto di umanità e di quel senso di appartenenza, di sopravvivenza. È ambientato in un periodo sicuramente molto difficile, in un paese altrettanto difficile. Ci troviamo in Russia durante l'inverno e le condizioni sono molto critiche. Le temperature sono impietose e già così è difficile sopravvivere. Mettiamoci in mezzo anche al fatto che sono in fuga. Queste persone quindi hanno sempre paura a rifugiarsi dalle famiglie perché temono di venire poi riportati, denunciati, eccetera. I due fuggitivi chiaramente perché stanno fuggendo. E il soldato russo ha ovviamente paura di essere etichettato come un disertore o come un traditore. Perché è stato appunto catturato ed è ancora in vita e gli è impossibile comunque comunicare con le altre persone. E quindi gli è diciamo anche impossibile poi tornare indietro e si chiede che fine farà. È una situazione difficile quindi per tutti. Io devo ammettere che non subisco molto il fascino della Russia. Quindi è una storia che mi ha colpito per l'aspetto soprattutto umano, per il periodo storico veramente intenso. Il dramma della guerra comunque viene riportato senza essere eccessivamente drammatica la narrazione proprio perché l'evento in sé è drammatico e anche la situazione che ogni persona vive nel suo piccolo è di per sé comunque difficile. Dicevo che non subisco il fascino della Russia quindi rispetto ad altre storie di questi due autori mi sono sentita un po' meno legata alla Terra, il Cielo e i Corvi. Nonostante io abbia apprezzato comunque la storia, i personaggi, la loro costruzione non mi sono sentita molto legata e trasportata. È una storia che ho letto a più riprese perché volevo un po' godermi il fumetto e un po' perché mi rendevo conto di far fatica a leggere tutto d'un fiato e comunque una storia così forte anche emotivamente parlando. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è la natura. All'interno di questo fumetto c'è tantissima natura. I paesaggi sono spesso, è vero, innevati però ci sono anche dei flashback e di nuovo quello che secondo me colpisce da subito è proprio il verde, l'arancione delle foglie, la terra. Questo respiro di natura che è quasi anche un sentimento di libertà. È proprio una boccata diciamo d'aria fresca fra un momento di tensione e l'altro. Sui disegni ho veramente poco da dire perché io amo tantissimo i disegni di Stefano Turconi. Trovo che i colori siano perfetti per questo graphic novel perché sono freddi e proprio agghiaccianti nei momenti di tensione quando vediamo appunto i soldati nella loro impresa di sopravvivenza e decisamente più caldi nei momenti di flashback, soprattutto nei ricordi diciamo più felici. Un altro aspetto molto interessante di questo fumetto è la ricerca alla base della storia. In tutti i fumetti comunque di Teresa Radice e Stefano Turconi io noto una profondissima ricerca dei vestiti, delle usanze, della lingua, della cultura e questo titolo non fa eccezione. È una cosa che forse in alcuni contesti diamo per scontato ma io non lo do mai per scontato. Cioè si vede proprio quando un autore è molto appassionato e ci tiene a fare un bel lavoro quanto impegno ricerca mette nel suo lavoro. E questo poi al lettore arriva, arriva nel dettaglio dei disegni, nella ricercatezza delle parole utilizzate, nelle varie citazioni. Nel fumetto ogni diciamo capitolo, ogni parte della storia è divisa infatti da una frase di Tolstoi. E questo fa sembrare poi il tutto molto vero, molto autentico, palpabile. Teresa Radice e Stefano Turconi non deludono, anche questo graphic novel è veramente molto valido. Come vi dicevo però per gusto prettamente personale rispetto ad altre loro opere mi ha convinto diciamo di meno. Ripeto, per gusto personale non sono una grandissima amante della Russia, non ho sentito quindi particolarmente trasporto per l'ambientazione, per la vicenda, per i personaggi comunque che sono stati presentati. Secondo me questa incomunicabilità che come vi dicevo viene ben resa attraverso le parole diciamo originali, lingua originale dei personaggi, poteva essere ancora più efficace senza la narrazione esterna. Non dico che dovesse essere assente ovunque perché sennò avrebbe veramente creato tanta confusione e forse più difficoltà di lettura, però in alcuni momenti secondo me era chiaro quello che stava succedendo, quello che i personaggi tentavano di dirsi e quindi la narrazione diciamo esterna era un po' tra virgolette superflua, però ripeto è prettamente un gusto personale. Ora però sono molto curiosa di sapere qual è la vostra opinione su questo graphic novel, fatemi sapere quindi qua sotto nei commenti se lo avete letto e in tal caso se vi è piaciuto o meno. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!